portiamo le mani davanti al cuore i pollici toccano il chakra del cuore le dita in su alza lo sguardo al punto tra le sopracciglia e sentiti connesso con una realtà più grande dell'ego con una realtà cosmica universale che ti permea con cui sei sempre collegato inspira espira inspira ratrizza e rilassa giù le braccia apri le gambe largo se puoi se scivoli girati e cammina verso la gamba sinistra allunga dietro alla gamba sinistra vado a specchio con voi scendi giù con la testa scendi 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 giù fino a dove puoi e respira nella parte posteriore della gamba come se potessi ispirare dentro tieni la gamba dritta se puoi e questo flusso in alto e questa gioia interiore lo vogliamo esprimere ora fuori portare fuori al mondo nella nostra vita portati sulle ginocchia in parigasana entriamo alla porta porta la gamba sinistra all'esterno giusto questo può essere un pochettino duro per il ginocchio tutto il peso è sul ginocchio se avete una coperta mettete se è duro mettiti una coperta sotto glutei forti pancia dentro la mano la mettiamo in questa maniera davanti tieni i glutei belli forti perché pancia dentro facciamo piegamento laterale inspira la mano destra su prova a salire e poi scendere solo lateralmente questa anca qui questa anca sinistra prova a farlo scendere un pochettino questo movimento e vieni laterale il braccio diritto lungo l'orecchio allungati dalla cima della testa tieni i glutei forti pancia dentro e c'è un movimento gioioso di elevazione mandi l'energia in alto quando tutte le lingue dicono mi sento su è una realtà energetica flusso in alto di energia stabilisce un flusso gioioso in alto nel corpo in questa posizione da una base forte stabile in alto afferma mentalmente onde di gioia si inalzano nella mia spina dorsale onde di gioia si inalzano nella mia spina dorsale porta la tua gioia dell'anima del sé nel tuo corpo grazie a tutti